L'ipotesi è che l'organizzazione degli eventi del Capodanno 2013 sia stata affidata in maniera irregolare. Per questo la Procura di Palermo ha chiesto il processo per quattro indagati coinvolti nel 2012 nell'organizzazione degli eventi. L'ipotesi di reato di abuso d'ufficio riguarda l'allora esperto del Sindaco per la promozione culturale Sandro Tranchina, l'ex capo area della cultura Eliana Calandra, che risponde anche di falso, l'ex dirigente dello stesso settore, Ferdinando Ania, è il funzionario Salvatore Tallarita. Secondo quanto ricostruito a Tranchina, già nel settembre 2012 era stata affidata in maniera informale l'organizzazione degli eventi del Natale e del Capodanno, formando uno staff all'interno del quale c'erano Tiziano Di Cara, rappresentante legale del Palab e il socio Giuseppe Romano. Entrambi non risultano indagati. Nel novembre successivo era stato pubblicato il bando per le proposte valutate dallo stesso Tranchina, nel frattempo diventato anche componente della commissione esaminatrice. Grazie al Tallarita, l'associazione Palab avrebbe anche apportato delle correzioni al progetto che il 10 dicembre del 2012 aveva poi vinto l'organizzazione del Capodanno per una cifra di 88 mila euro. I costi di noleggio degli impianti audio e di illuminazione inoltre sarebbero anche stati a carico del Comune. Con un meccanismo simile, ricostruisce la Procura di Palermo, sarebbero stati affidati gli eventi del Natale alla cooperativa Graham e Associati. Un nuovo caso giudiziario dunque che riguarda personale dell'amministrazione comunale. Pochi giorni fa era arrivata la condanna ad un anno del capo di gabinetto del sindaco Sergio Pollicita, che poi aveva presentato le dimissioni. Mentre nel marzo scorso i dirigenti Mario Licastri, Giuseppe Monteleone e altri tre funzionari erano stati raggiunti da condanne per lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio.